L'esercito ucraino si è ritirato dalla città di Vuledar, luogo strategico dal punto di vista militare. La Russia continua nella sua lenta ma costante avanzata in Donbassi. I soldati di Mosca hanno issato la bandiera russa su uno dei pochi edifici ancora in piedi. Vuledar prima della guerra contava circa 15.000 abitanti, era un importante polo minerario, oggi è ridotta ad un cumulo di macerie. È una città che non esiste più, sono fuggiti tutti e nessuno ha intenzione di tornare. Le immagini satellitari raccontano la devastazione causata dai continui bombardamenti che in quest'area dell'Ucraina vanno avanti dal 2014. Tutte le città e i villaggi conquistati dai russi sono ridotti in queste condizioni. Bakhmut, Avdivka e adesso Vuledar, luoghi lunari che non saranno mai più abitati. La procura militare di Kiev intanto ha aperto un'inchiesta sulla fucilazione di 16 prigionieri di guerra ucraini. Sarebbe avvenuto nei pressi di Pokrovsk a ridosso del fronte. È l'ulteriore prova, ha commentato il capo della procura ucraina, che torturare e uccidere i prigionieri di guerra fa parte del normale modo di agire dell'esercito russo.